Ciao, mi chiamo Alessandra Salimbene e sono titolare di SR Comunicazione, una società di consulenza che si occupa di retail marketing, formazione, personal e team coaching. Nel workshop di questa edizione di Small Roadshow ho parlato di come si è evoluto il mercato, in particolare nel mercato per il retail tradizionale, e di come si sono modificate le dinamiche commerciali nel rapporto tra il cliente e il retail con l'ingresso nel mercato di nuove realtà, quali i siti e-commerce diretti dell'industria, i siti di social commerce e cose di questo genere. Abbiamo visto come il CRM, quindi il CRM strutturato con l'utilizzo di strumenti digitali, quindi l'email, l'SMS e il mobile marketing, possano essere degli strumenti molto validi per consentire all'azienda commerciale tradizionale di mantenere un rapporto continuativo con la propria clientela e quindi rimanere vincente anche in un mercato così complesso e difficile. Come consiglio alle aziende italiane in questo momento difficilissimo, io direi quello di tenere sempre sott'occhio il proprio posizionamento e di avere sempre chiaro chi si vuole essere e dove si vuole andare. Una corretta strategia, una corretta pianificazione e l'apertura mentale, l'apertura all'innovazione non soltanto tecnologica ma anche nelle modalità di comunicazione e di relazione con la propria clientela e il proprio mercato sono gli aspetti che ci permettono di essere competitivi e di affrontare qualsiasi tipo di problema congiunturale.